L'accordo del 30 novembre scorso per l'avvio dei contratti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici apre una nuova stagione per la funzione pubblica CGL. Il Comitato Direttivo Provinciale della FP CGL di Catania ha infatti approvato un ordine del giorno dove vengono segnalati alcuni risultati nazionali importanti, tra tutti l'aver ottenuto l'impegno a ridefinire i contenuti del testo unico sul pubblico impiego a partire dal superamento della rigidità del sistema di valutazione. In questo modo sarà stabilito un nuovo sistema di relazioni sindacali a favore della contrattazione e del rapporto tra le fonti.